... Francamente non c'è nulla da ridere, parlando di editoria tradizionale, quando girano le voci, ma che non sono voci, sono realtà che c'è un calo di circa il 50% nelle vendite di libri tradizionali, si parla di librerie che aumentano gli spazi per la sezione gadget, togliendolo ai libri, in ogni modo l'editoria tradizionale sta attraversando il processo di rivoluzione epocale, già previsto da tempo e segnali sono anche quelli di grossi gruppi editoriali, non sto a fare il nome, che anche loro si farebbero o si fanno pagare per pubblicare dei libri. L'editoria si sta profondamente trasformando e gli editori, che cosa stanno facendo? I piccoli, i medi, i piccolissimi editori, che cosa stanno facendo? Si stanno trasformando tutti in editori a pagamento, ovvero in non editori?